Vincere come questa, delicata, una vera semplice, bisognava ritornare dopo la partita di Rende e riprendere con il giusto entusiasmo e alla fine ha scelto anche di entrare dal centro con la Viterbese che continuava a spingere. La Viterbese è un'ottima squadra, a mio avviso ha elementi per stare nel vertice. Di questo campionato, probabilmente gli manca il ritmo partita, essendo, essendo, avendo fatto la prima, hanno venne, mi pare, che erano i primi di novento, quindi, però questa è una causa, però sicuramente è una squadra che è equilibrata, è muscolare, ha un buon parlegio, sa giocare al calcio, ha un buon idea di gioco, forse, forse un pochino bassa come atteggiamento, almeno iniziale, poi, chiaro, nel momento in cui era assolto dal col, giustamente doveva spingere da qualche parte, che non a zero, ma a dover rafforzare la situazione. Noi ci siamo adeguati, considerando la condizione e l'aspetto tecnico di ogni nostro calciatore, quindi la possibilità di ripartire, passare con i tre, questo non è comportato granché, come rompere determinati equilibri, perché con gli esterni dovevamo stesso attaccare i loro terzini alti, quindi è un momento in cui spingere. E poi, siccome lui ha cambiato, è passato da un quattro e tre, è passato da un quattro e tre, due, uno, due, e quindi questa, una volta che ha messo pacivi dietro i due punte, in qualche maniera dovevamo creare densità in quella zona, un po' con l'omore di rialtare su quella posizione, e chiaramente garantissi la superiorità, non merita, ma indietro i diversi dietro. Il risultato ci stava dicendo bene, quindi credo che sia stato giusto così. Mister, buonasera. A Rende, mister, la partita è cambiata quando lei ha, diciamo, accentrato, almeno così mi è parso, accentrato di più Taurino e Melillo, no? Che sono andato a fare più o meno il trequartista, un po' a turno, così. Anche oggi, comunque, diciamo, lo scheramento era lì circa quello. Taurino non l'abbiamo quasi mai visto largo, diciamo, e Melillo nel secondo tempo proprio da trequartista. Cosa non ha funzionato nella trequartista, mister? Ho visto un po' di imprecisione, proprio nella fase finale della manovra, mentre invece dietro, quando lei diceva che doveva la squadra imparare un po' meglio a gestire, a rallentare, quello invece mi pare che, diciamo, è stato fatto un po' troppo, forse. C'è stato fatto anche mantenendo un'opera regionale. Il scorso di quelli davanti, ma si arrende che oggi, inizialmente, fino a che non siamo passati a tre, cinque. E quello, essendo due metri punti, noi ne facciamo un quattro, tre, tre. Lì che è fanno il quattro, tre, due, uno. Proprio per le loro caratteristiche, quindi portarli un po' all'interno del campo. Io ti scopro che, quando hai, dall'altra parte, un play, quindi uno che gioca davanti alla difesa, la prima idea è quella di indirizzare il giocatore su un lato del campo, e quindi a quel punto la mezza punta si arme sul terzino loro, però l'altra mezza punta deve venire dentro e andare a chiudere le situazioni di passaggio sul play. Loro sono calciatori offensivi, questo non è sempre c'è la linea di coppia, la linea è sempre sovricitale, in qualche modo, però credo che lo spirito, quanto meno l'attenzione nel farlo, ce la mettono. Per quanto riguarda invece il discorso di qualche precisione, anche oggi sì, abbiamo avuto qualche precisione, soprattutto nel momento in cui magari ancora oggi si cerca di forzare l'ultimo massaggio, o l'ultimo passaggio, chi sono quei calciatori? Insomma, di me di io, sono in calorino, dovevano venire in quelle zone di campo, prendersi, ma una volta lo fa bene anche lui, che basta per poi scaricare la tacca sulla profondità. Come sul gol, mister. Quindi noi d'inquietti, poi ci sono gli avversari, il campo, onestamente è un campo che l'anno scorso, che è pesantissimo, nelle caratteristiche di questi calciatori, sono penalizzati, sono due calciatori da campi asciutti, più che questo. Femmo restando che qualche precisione, perché proprio il piede non la manda dove lo vorrebbe mandare, e dice tutto. Mister, sull'occasionissima di Pacilli, molto bravo Riccardo Mengoni, se l'80% del temerito, credo che sia proprio il calciatore di Peter Best, Vabbè, anche solito, anche noi qualche volta abbiamo provato dei portieri, diciamo, se ci hanno, non ci hanno fatto fare gioco, a volte è un'isprecisione nostra, a volte era un tiro fiacco, a volte ballena centrale invece di essere un gol, e Pacilli è un ottimo calciatore, non tenevamo per le sue qualità, anche quando è giocato da esterno, ecco lui è uno da 4-3, quindi nel momento in cui giocando sulle destre rientra il piede sinistro che ha un altro piede, può portare nello scompito, come l'ha portato nell'occasione di quel tiro, a me è un potere sempre parare. E' un altro proposito, la mia madre vorrei ritrovare qualche caratteristica mentiva, questo aspetto, la difesa ogni partita, penso a un gol del Rende, a un'occasione di Pacilli, anche quella nel primo tempo di Rinaldi, la difesa regala sempre all'avversario 1-2 cometti pericolosi? Mi tende a dire che se da qui alla fine del campionato restano 1-2 per partita, mi va benissimo, qual è quella squadra che non concede 1-2? Le concede anche la Juventus? Qua forse dimentichiamo che sono degli errori, però tutto migliora giustamente, ma noi non le analizziamo, noi le partite le rivediamo tutte, e dove ci sono degli errori che sono di ordine individuale oppure anche tattico di reparto del SIA, noi andiamo a focalizzare quello che è stato l'errore, e quindi cerchiamo di migliorare. Non sempre l'errore è del singolo, c'è sempre una sequela di errori che nascono a mudo. Come è successo nella partita corrente, il problema non è stato di Malberti, soltanto di Avvocato Ruffini, lì c'era anche una postura sbagliata, anche la terza spinta che ha subito finito. Però sono queste le cose, però noi giustamente le rivediamo, e ci andremo ancora fermo restando, e se il resto 2-2 per partita, va bene. Mister, tu eri molto preoccupati a settimana per questa partita, perché è una partita molto delicata, possiamo dire che questa è stata la vittoria della maturità, per la Vibonese, perché affrontava probabilmente dopo il Trapani la squadra più forte, e questa, un po' di numeri, è la quinta vittoria consecutiva in casa per la Vibonese, ed è la quinta vittoria senza prendere bolla, che non è un... Che prende da poco. Da poco, ecco. Cosa pensi di questi numeri, e se possiamo dire che questa è la vittoria della maturità di questa squadra? Sicuramente c'è credibilità nel gruppo, e anche sotto questo aspetto di maturità, c'è credibilità, hanno consapevolezza delle proprietà di talità, sono tutti predisposti a essere operativi all'interno di un sistema di gioco, mi piace o non mi piace, quindi tutti si mettono a disposizione, ed è sicuramente un segno di crescita e di maturità. Mi conforta il fatto di non aver preso gol, è una cosa che mi piace, è una squadra che ha avuto anche oggi, credo è qui è cresciuta, nella fase in cui doveva gestire palla, col fraseggio e col parreggio l'ho fatto, quindi ha avuto anche quella capacità che chiedo da tempo di saperla aumentare. Non sempre si va avanti per l'inerzia, o per l'istintività che alcuni lanciatori ce l'hanno nelle proprie corde, che poi ti porta a degli squilibri, e a dover rincorrere concedendo molto di più di quella 1-2 operazione che diceva il proletto, quindi quella è una cosa che un pochino mi preoccupava, però oggi ho visto dei segnali in questi termini positivi, quindi la capacità anche di proletto. Il rischio non è adesso il classico colpo di vertigine, visto che adesso la classifica comincia a diventare. Il rischio della vertigine è forse nel sentirsi un po', non dico troppo bravo, però a volte il 5-0 un pochino ti fa sollevare la terra, no? Prefisco le partite così, che tu vinci con fatica, vinci con sacrificio, e che in qualche modo ti dà la consapevolezza di aver fatto una partita, esecutiva contro un'ottima scuola, e quindi ti tiene per forza di prendere i piedi per terra. La classifica noi non la dobbiamo guardare, dobbiamo ricordarci che siamo l'attitudine, che è una società che ha l'obiettivo della salvezza, perché se magari viene prima di un certo numero di giornate, alla fine è tanto meglio, poi penseremo a quello che bisognerà fare, però l'obiettivo resta il più possibile della salvezza. Grazie. Grazie mille.